...è una battaglia... Io rispetto il Bassolino, sindaco della prima URA, che io votai anche. Adesso lo trovo profondamente, devo dire, disonesto intellettualmente nella sua analisi, senza che questa voglia apparire come un'offesa. Insomma, l'ho detto in modo molto chiaro. Loro ci hanno consegnato, soprattutto Bassolino, che poi controllava anche il Comune di Napoli, un cadavere. Noi questo cadavere l'abbiamo rianimato e adesso lo faremo vivere, non lo faremo stare in terapia intensiva. Allora, questo Bassolino lo deve riconoscere, se è una persona onesta, se è il Bassolino che votai vent'anni fa. Che poi ci sia un dibattito su tanti temi, a cominciare da quello della sanatoria, la regolarizzazione, gli occupanti abusivi, la camorra, lo Stato. È bello che ci sia un dibattito, quindi non c'è confusione, c'è dibattito. Evidentemente prima le decisioni si prendevano in altro modo e l'abbiamo vista, perché poi Bassolino mi pare che è quello che ha fatto il sanatore. Quindi non vedo di che sta parlando. Quindi guardassero un pochino ai disastri che sono stati fatti nel passato. Oggi apriamo una stagione nuva e io ho interesse a costruire un rapporto importante col Partito Democratico.